25 SNC di Guido Albucci e Antonio Aurilio per aver saputo imporsi nel settore della comunicazione grazie all'impegno e all'esperienza professionale e all'originalità imprenditoriale. Guido Albucci, venato dal Vice Sindaco di Castiglione Fiorentino Davis Milighetti, dal Presidente Confesercenti Arezzo Mario Landini e da Valeria Alvisi, direttore Confesercenti Arezzo. Guido Albucci Ceo, ma protagonista con Antonio Aurilio è un team giovane che è riuscito a far salire sull'aereo dell'e-commerce e a far volare in alto, soprattutto durante la pandemia tante attività commerciali trasformando la debolezza in valore aggiunto. Bravi! Grazie!